trevan james bannato da youtube il grande influencer di cripto americano è stato buttato fuori dal tubo cosa è successo come mai tratteremo questo di tante altre cose in questo video nuovo microfono scrivetemi nei commenti se si sente bene tante cose di cui parlare corro un po se non voglio fare un video troppo lungo allora trevan james sta facendo uno streaming in diretta e pare che stava parlando male di qualcuno è stato bannato poi youtube non è che ti spiega tanto come mai come non mai adesso trevan james è finito dove su oh dai sì una piattaforma decentralizzata che pubblica video ma non fa censura in poche parole qual è la cosa interessante per noi del mondo cripto con odai sì è interessante perché odai sì da delle reward io mi sono appena registrato anche su odai sì sto portando i miei video di youtube anche su questa piattaforma così caso mai dovessero bloccare anche il mio account non si sa mai ritroverete poi tutti i video qui anzi ogni tanto posterò dei video esclusivi su questa piattaforma si ricevono delle reward in library credits su solo guardando video pubblicando video su questa piattaforma prezzo attualmente di 21 centesimi di dollaro ma vedete la crescita che sta avendo library credits questo è negli ultimi 90 giorni capitalizzazione di mercato attualmente attorno 120 milioni ancora un gran margine di crescita non consiglio finanziario però diciamo che il futuro sta andando un po verso questa direzione e quindi meglio prendersi una fetta del mercato dove va al futuro questo è una una riflessione brevi aggiornamento sugli ultimi video che ho perché sono state alcune domande allora sugli airdrop qua di cripto iro su no q una cosa che non avevo ben specificato nel video qualcuno me l'ha chiesto bisogna andare ad importare la no q chain che in effetti non l'avevo specificato nel video poi qualcuno si è registrato mi dice ma io non ho ricevuto i no q gli cripto heroes è vero perché quando andate a registrarvi importate il no q chain se no piuttosto rifate la registrazione se no non funziona b dollar b dollar share tutti i matti adesso per b dollar share e per di non solo b dollar share scusate qui ci arriviamo dopo come mai guardate il prezzo adesso dove è arrivato questo il grafico degli ultimi due settimane noi quando avevamo iniziato a parlarne eravamo attorno qua dove siamo arrivati ma non c'è solo b dollar share ci sono anche c'è monster slayer share prezzo 884 dollari guardiamo il grafico delle ultime due settimane raddoppiato poi c'è midas dollar share oggi vale 20 e passa mila dollari due settimane fa 5 mila dollari quadruplicato probabilmente non usciranno anche altri come mai come mai tutto questa hype ora sono tutti accorti di che il algoritmico è la nuova la nuova fortuna come mai ancora una volta verso il caso di ritornare qui su ho fatto il video spiegavo cosa so cos'è b dollar b dollar cosa sono gli share ma spieghiamo ancora una volta se ferma qui il tab perché tutti vogliono diventare i holders qua delle share perché perché praticamente c'è un incentivo allora quando il prezzo è su questo in questo caso del b dollar è sopra il dollaro alla fine dell'epoca qui in un epoca dura sei ore io ricevo delle delle rewards in b dollar a seconda chiaramente di quante share si sono si hanno o quanto c'era ho acquistato più c'era acquistato più reward ricevo quindi c'è un incentivo a comprare le share a non venderle per avere le rewards e allo stesso tempo c'è un incentivo a tenere il prezzo sopra il dollaro perché perché appena scende sotto il dollaro cosa succede si acquistano i b dollar bond esempio mettiamo che il prezzo adesso qua è 90 centesimi da parte che non praticamente non è mai stato sotto il dollaro è stato solo un paio di momenti brevissimi perché appena scende sotto il dollaro per esempio appunto 90 centesimi io posso comprare un bidollar bond a 90 centesimi il bidollar bond lo posso rivendere solo una volta che il prezzo è tornato sopra il dollaro e a che prezzo lo posso vendere se io adesso ho un bidollar bond il prezzo del bidollare è 1.17 il bidollar bond io lo posso vendere a 1.36 quindi già ho un guadagno non solo perché ho comprato a 90 centesimi ma perché lo posso rivendere a un prezzo superiore al bidollar quindi super incentivo a tenere il prezzo sopra il dollaro e ad essere degli degli shareholders quindi degli azionisti di questo protocollo di tutti e tra i protocolli e quindi è tutto un sistema che si che un incentivo un continuo incentivo a acquistare e ad attenere il prezzo alto che sta andando avanti e appunto questi sono i risultati quanto potrà durare ancora non si sa l'offerta in circolazione sono in totale arriveranno a mintarne 100.000 adesso sono già 885.000 ma è un minting molto lento quindi può darsi durare ancora un anno circa la produzione e quindi può darsi che vada avanti molto ancora io sono già anzi vento di non aver investito di più ho una una parte qui di share che ora non vendo più ho già recuperato l'investimento iniziale ricevo delle reward giornaliere e fin tanto che sono già in profitto fin tanto che durerà il protocollo continuo a ricevere queste reward sto valutando se acquistare altre share questo era per bidollarshare poi i bidollars il breve aggiornamento sulle mie tre lockup ho fatto un video quasi una settimana fa come stanno andando allora una era etherland che non è ancora listata su coingecko se andiamo però su uniswap quando la sezione qui per se andate a scrivere e land ethereum riesce fuori il grafico questo è il grafico del prezzo eravamo qui più o meno al momento del video si era poi quadruplicato ora si è stabilizzato in questo momento attorno ai 4 centesimi e mezzo di dollaro ma market cap ancora neanche 2 milioni quindi immaginatevi il potenziale di crescita questo è il mio account su open sea dove ho aumentato un NFT che devo ancora mettere in vendita e qui ho comprato ho fatto il mio primo acquisto su etherland che ho preso sulle pagoda del myanmar e vediamo se l'ho presa 28 mila e la vediamo se riuscirò a piazzarla 60 mila vedremo vi terrò aggiornato due giornati ovr ovr intanto come sta andando il prezzo adesso è quasi 90 centesimi di dollaro questo era il grafico le ultime due due settimane avuto quasi più 100 per cento degli ultimi sette giorni più 50 per cento la capitalizzazione di mercato 12 milioni di nuovo ancora grandissimo potenziale di crescita ovr tra l'altro che si possono mettere in staking io l'ho messi 9 mila a sei mesi e già mi stanno iniziando a dare delle rewards ho preso alcuni alcuni esagoni un po' a los angeles all'universal studio se ho preso uno vicino alla torre eiffel un altro vicino alla white house ho preso il billionaire alcune discoteche cioè non tutto ma alcuni osagoni delle discoteche di bizza alcuni vicino dove abito vediamo questo potrebbe essere anche un altro business costruirci della realtà virtuale o rivenderli poi c'è c'era ancora uno che era non è questo ma Wokspi allora questo gli ultimi 30 giorni quanto più 30 per cento cioè le ultime 24 ore più 30 per cento gli ultimi sette giorni più 100 a 16 per cento le ultime due settimane più 230 per cento è la blockchain degli nft Wokspi gli nft sapete l'hype che c'è attualmente non ci sono costi praticamente a usarla quindi immaginatevi è chiaro che cresce e immaginatevi ancora il potenziale di crescita che c'è quindi chi è entrato qua complimenti ha già triplicato mi ho raddoppiato quadruplicato il proprio investimento poi non sono consigli finanziari però sicuramente non vi siete trovati male se qualcuno è entrato dopo che ha visto questo video per finire il video per non farlo troppo lungo qualcuno mi ha chiesto se sono ancora dentro del gas farming certo che sì anche se non sta andando bene ho 5.7 unidex gas 6.8 enolo etanol sono ancora in gas g 793 anche se si attende la nuova dashboard sono entrato pure in gasify che è un aggregatore automaticamente gasify mi fa il claim e mi accredita sul wallet molto buono questo protocollo e tra l'altro mi fa vedere per esempio sulla stessa dashboard di unidex che abbiamo visto prima che ne ho 5.7 mi dice quanti etanol ho e mi dice se posso fare il claim o non ancora qui mi dice airdrop vuol dire che deve ancora arrivare il claim qui unidex posso già fare il claim perché ogni giorno potrei anche cliccare qui e fare il claim o andare direttamente nell'app ma qui mi da uno sguardo di una veduta generale d'insieme su un'unica app molto buono gasify purtroppo non c'è ancora tanta adozione questi protocolli di gas farming ma sono un modo per recuperare dalle fee che stiamo spendendo su ethereum ancora altissimi prezzi vedremo se riuscirà qualcuno finalmente riuscirà anche a ancora poco sono ancora poco conosciuti sono ancora un migliaio e solo di holder a live in tutta la blockchain praticamente nessuno quasi nessuno ancora li conosce questa è la verità vedremo se prenderanno piede nei prossimi mesi un'ultima cosa per finire volevo segnalarvi che ho fatto la sottoscrizione a un sito che che parla di che fa delle delle valutazioni sull'andamento del mercato delle criptovalute e fanno delle dei calcoli delle usano delle proiezioni matematiche in base ai dati storici un po' anche in base all'analisi fondamentale e vediamo se vedremo se 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 saranno corrette o no adesso io non potrò condividerli tutti nei dettagli ma volevo solo segnalarvi che se io metto per i prossimi 30 giorni la price prediction nella questo è un po' la la top 100 market cap eh vedete market cap prende in considerazione solo la top 100 nei prossimi 30 giorni questi di tokenmetrics sono bullish su Voyager e su alcuni altri tipo NEM perché adesso ho avuto il calodo e poi ethos curve qualcosa compound un po' qualcosa sulla DeFi se no in generale vedete che sono le stable coin arrivano e attendono c'è un dip del mercato un dump poi di tutti i token vedete ethereum meno 25% e bitcoin so che volete sapere attualmente è previsto un meno 40% e poi il il riguardo agli nft che hanno avuto un grandissimo pump ciliengine soprattutto prevedono un grandissimo calo meno 77 meno 94 sarà così loro dicono ma dopo da novembre che stanno salendo quindi è normale una ricorrezione vedremo se avranno ragione io nel frattempo una parte di ho convertito da parte del mio portafoglio crypto in stable coin per tutelarmi da un eventuale dump vedremo se avranno ragione vi terrò aggiornati e restate sintonizzati su questo canale se vorrete ricevere in anteprima queste notizie bene